Nessuno mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto alla paura, non che io abbia paura. La somiglianza è fisica, gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli, inghiotto in continuazione. Altre volte è come un'ubriacatura leggera o come quando si batte la testa e ci si sente rintronati. Tra me e il mondo c'è una sorta di coltre invisibile, fatico a capire il senso di quello che mi dicono gli altri o forse fatico a trovare la voglia di capire. È così poco interessante. Però voglio avere gente intorno. Ho il terrore dei momenti in cui la casa è vuota, ma vorrei che parlassero tra di loro, non a me. Ci sono momenti del tutto inattesi in cui qualcosa dentro di me cerca di rassicurarmi che soffro, sì, ma non così intollerabilmente. Nella vita di un uomo l'amore non è tutto. Ero felice già prima di conoscere Gioi. Ho parecchie risorse, come si dice. Queste sono cose che tutti superano, ma sì, me la caverò. E per un po' gli argomenti sembrano persuasivi. Poi, ad un tratto, la stilettata rovente di un ricordo e tutto quel buonsenso svanisce come una formica nella bocca di una fornace. Per reazione si passa alle emotività, alle lacrime. Preferisco quasi momenti di angoscia. Almeno sono puliti, onesti. Mentre il bagno di autocommiserazione, il crogiolarsi nella sofferenza, la piccicosa volutà del pianto che disgusto. Perché Gioi era tutto il contrario. La sua mente era agile, scattante, muscolosa, come un leopardo. Una mente che né passione, né affetto, né sofferenza potevano disarmare. Coglieva nell'aria il minimo sentore di ipocrisia o di vacuità. Poi spiccava il balzo e ti atterrava prima ancora che tu capissi che cosa era successo. Quante mie bolle di sapone ha fatto scoppiare. Ho imparato presto a non dire idiozie con lei, se non per il puro piacere. Un'altra stilettata rovente. Di essere smascherato e canzonato. Non sono mai stato meno fatuo che come amante di Gioi. E nessuno mi aveva detto della pigrizia del dolore. Tranne che nel lavoro dove la macchina sembra funzionare più o meno, come al solito, ho orrore di ogni sforzo. Anche minimo. Non dico scrivere, ma perfino leggere una lettera è troppo. Perfino farmi la barba. Che importa ora se la mia guancia è liscia o ruvida. Dicono che chi è infelice vuole distrazioni. Qualcosa che lo aiuti a non pensare? Sì. Sì. Ma come un uomo stremato in una notte fredda vuole sul letto un'altra coperta piuttosto che alzarsi a cercarla. Preferisce continuare a battere i denti. Si capisce perché le persone sole diventano sciatte e alla fine sporche e disgustose. non posso parlare di lei con i ragazzi. No. Al primo accenno sul loro viso compare non il dolore, non l'amore o la paura, la pietà, ma quel micidiale isolante che è l'imbarazzo. È come se io commettessi una sconvenienza. Non vedono l'ora che io la smetta. Anche io reagivo allo stesso modo dopo che morì mia madre quando mio padre la nominava. Non ne faccio loro una colpa. I ragazzi sono fatti così. O forse hanno ragione. Che cosa penserebbe Gioi di questo terribile quadernetto al quale ritorno incessantemente? Sono morbose queste note? Ricordo una frase letta, non so dove. Passai una notte insonne con il mal di denti pensando al mal di denti e alla mia insonnia. È l'esempio di una verità generale. Io non solo vivo ogni interminabile giorno nel dolore per la sua morte, ma io vivo pensando che vivo ogni giorno nel dolore. E se queste note servissero solo a esasperare questo aspetto, a ribadire il monotono lavorio della mente intorno a un unico pensiero. E poi non sono solo i ragazzi. Una strana conseguenza del mio lutto è che mi rendo conto di essere imbarazzante per tutti quelli che incontro. Al lavoro, al club, per strada. Quando qualcuno mi avvicina, gli leggo in faccia l'incertezza se accennarne o no. Per me è odioso sia che ne parlino sia che non ne parlino. Alcuni poi battono in ritirata. Robert mi evita da una settimana. Per altri invece sono peggio che un imbarazzo. Sono un teschio. Quando incontro due sposi felici so cosa pensano. Un giorno uno di noi due sarà come lui ora. Forse chi è in lutto dovrebbe essere isolato in quartieri speciali. Come i lebrosi. All'inizio mi atterriva l'idea di ritornare nei posti dove Joy e io siamo stati felici. Il nostro pub preferito, il nostro bosco. Ma ho deciso di farlo subito. Come quando si rimanda in servizio un pilota che ha appena avuto un incidente di volo. Con mia sorpresa non è successo nulla. La sua assenza non è più insistente in quei luoghi che altrove. È l'atto di vivere che è diverso in ogni momento. La sua assenza è come il cielo. Si stende sopra ogni cosa. No, no, non è del tutto vero. C'è un luogo dove avverto la sua assenza in modo localizzato ed è un luogo che non posso evitare. Il mio corpo. Quando era il corpo dell'amante di Joy aveva ben altra importanza. Adesso è come una casa vuota. Il tempo, lo spazio, e il corpo sono state le cose che ci hanno uniti. I fili telefonici grazie ai quali comunicavamo. Isola uno dei due. La conversazione non dovrà forzatamente interrompersi. Non è passato neanche un mese dalla sua morte. E già sento l'insidioso inizio di un processo che farà della gioia a cui penso una donna sempre più immaginaria. Lentamente, silenziosamente, come fiocchi di neve, sulla sua immagine si stanno depositando piccole scaglie di me, mie impressioni, mie scelte. E alla fine la forma reale ne sarà completamente nascosta. Dieci minuti. Dieci secondi della vera Joy. Basterebbero a correggere tutto ciò. Ma anche se mi venissero concessi. Un secondo più tardi i piccoli fiocchi ricomincerebbero a cadere. Il sapore aspro, mordente, purificatore della sua alterità. Ma è scomparso. Ma la sua voce è ancora viva. Il ricordo della sua voce. Che in qualsiasi momento può fare di me un bimbo singhiozzante. Ah, il suo viaggio continua, mi dite. Ma il mio cuore, il mio corpo, gridano, ritorna. Ritorna. È il professor Lewis che scrive queste note dopo aver perduto la propria compagna. è il diario di un lutto, quello che abbiamo ascoltato, che ascolteremo più avanti. Il professor Lewis è un cattolico, teologo, insegna all'Università di Oxford, di Cambridge. È un professore. È un uomo religioso. Ma questo non gli rende più facile l'esperienza atroce del lutto. Da quello che abbiamo ascoltato in questo primo frammento, vorrei isolare almeno tre punti fondamentali. Il primo è quello dell'assenza. L'esperienza del lutto è innanzitutto un'esperienza dell'assenza. che è appunto come il cielo si distende su ogni cosa. Che cosa significa? È un'assenza che modifica il nostro rapporto col mondo. non il rapporto semplicemente tra lui e lei, ma l'assenza di lei modifica l'ordine stesso del mondo. Cioè il mondo semplicemente non è più come prima. Questa assenza, inoltre, il fatto che lei non sia più qui, che lui non possa più ascoltare la sua voce, che lui non possa più toccarla, vederla, ascoltarla, appunto, apre un buco nel mondo e al tempo stesso apre un buco nel soggetto, nel professor Lewis. Questa assenza non è una semplice assenza. È una forma acuta della presenza. Lei non è più qui. Ma il fatto che lei non sia più qui la fa essere qui in ogni momento. Eppure il suo essere qui in ogni momento è inattingibile, irraggiungibile. Non ritornerà. Lo abbiamo sentito alla fine l'appello di chiunque è impegnato in un lutto. Ritorna. Torna. Ma non ritornerà. Nessuno può ritornare dal regno dei morti. L'esperienza della morte è un'uscita irreversibile dai nostri radar. Non ci sarà più contatto. Non ci sarà più possibilità di comunicazione. Gli esseri umani hanno inventato di tutto per stabilire un rapporto tra il regno dei vivi e il regno dei morti. La preghiera, innanzitutto. La preghiera è un modo per mettere in rapporto i vivi e i morti. L'urna, il sepolcro. Nell'urna, confortato dal pianto, è forse il sonno della morte menduro, si chiedeva Foscolo nei sepolcri. Hanno inventato ogni genere di cose. Per esempio, macchine assurde, strambe, che catturano le voci dall'aldilà, che ci mettono in contatto, ci metterebbero in contatto con l'aldilà. Ma in realtà, come il professor Lewis ci dice, la sua voce, la voce della sua amata, è una voce perduta per sempre. Dunque, questa assenza è una forma della presenza, ma questa presenza è paradossalmente un'assenza. E questo rende difficile potersi separare, poter staccarsi da chi abbiamo già perduto. Lo diceva bene con parole più semplici un mio paziente, parlando della fine di un amore, della morte del suo amore, quando diceva, parlando di lei che se n'era andata, la sua perdita ha ingombrato la mia vita. Cioè, lei non c'è più, non è più qui, ma la sua perdita, come il cielo, si distende su ogni cosa. E poi un altro elemento che abbiamo sentito riguarda il corpo. Cioè, il corpo del professor Lewis, il corpo di chi è afflitto da un lutto, non è più lo stesso di prima. Assomiglia, dice, a una casa vuota. E' indifferente radersi e non radersi. E' indifferente pulirsi e non pulirsi. Perché senza l'amore dell'altro, senza la presenza dell'amore dell'altro, il nostro corpo sprofonda nell'insignificanza. non ha più valore. Appunto, è una casa vuota. Quando noi ci sentiamo amati, il nostro corpo acquista valore. In fondo, quando noi amiamo qualcuno, amiamo tutto del suo corpo. Anche i dettagli più infimi, potremmo dire. Amare significa veramente amare tutto del corpo dell'amata, dell'amato. Ma quando l'amore viene meno, quando appunto si frantuma la presenza dell'amore, allora il nostro corpo diventa una specie di pattumiera, un oggetto senza valore, un oggetto scarto. E il terzo elemento è quello del dolore. Non c'è lutto, non c'è possibilità di lavoro del lutto, come direbbe Freud, senza l'esperienza del dolore. Il lutto riguarda, da una parte, la memoria. Necessariamente noi ricordiamo chi non è più qui. Ricordiamo il suo modo di gesticolare, di camminare, di parlare, di dormire. Ricordiamo la sua sagoma, muoversi nella casa. Da una parte, la memoria è inevitabile. Noi siamo portati a tratti, come da un magnete segreto, a ricordare chi non è più qui. Ma non solo ricordiamo volontariamente. Lo abbiamo ascoltato. A volte i ricordi appaiono come una stilettata, un colpo, un colpo di frusta. Facevo tutt'altro e ad un certo punto ecco il ricordo della sua voce che mi colpisce. Non sono io che ricordo il ricordo, ma è il ricordo che arriva da chissà dove mi colpisce, mi stordisce. La memoria, questo lungo lavoro della memoria che accompagna ogni lutto. Per questo il lavoro del lutto esige anche tempo. Non può essere rapido. Il professor Lewis non sostituisce la propria compagna con un'altra compagna. non rimpiazza il corpo dell'amata con altri corpi, nemmeno con altri oggetti. Le resta fedele. Resta fedele alla sua assenza. Dunque, il dolore è il segnale che noi, nel lutto, non possiamo rimpiazzare l'oggetto perduto con un altro oggetto. che ciò che abbiamo perduto è insostituibile. Nessuno può prendere il suo posto. Nessuno può sostituire chi non è più qui. E allora il dolore dell'assenza, non c'è, dicevo, lutto in dolore, non c'è lutto rapido. Il lutto implica il dolore, il lutto implica il tempo. e il professor Lewis ci dice qualcosa di essenziale su questo dolore. È un dolore diverso dai dolori che conosciamo. Perché non è un dolore che si localizza in una parte del corpo. Non è il dolore di un organo. Non è un dolore che noi possiamo circoscrivere. è un dolore che investe tutta la nostra esistenza. Che investe, come dice, il nostro vivere. La mia vita diventa dolorosa. La mia vita senza di lei diventa dolorosa. E poi abbiamo per questo l'invocazione. Ritorna. Ritorna. Perché solo se lei ritornasse, solo se lei potesse ritornare, il dolore si affievolirebbe. Solo se lei potesse ritornare in qualche modo, in qualche forma, il professor Lewis troverebbe pace. Ma questo ritorno, come dicevo prima, è impossibile. Lo dice a suo modo con un'immagine semplice ma essenziale, Sartre, quando dice tutti noi siamo dei viaggiatori con un solo biglietto di andata. Non ci sarà ritorno. da come parlo, chiunque penserebbe che la morte di Gioi conti soprattutto per l'effetto che ha avuto su di me. Ma che genere di amante sono se in cima ai miei pensieri molto prima di lei metto la mia afflizione. Anche quel folle grido ritorna. L'ho lanciato pensando a me. Non mi è mai venuto in mente di chiedermi se un tale ritorno, ammettendo che fosse possibile, sarebbe un bene per lei. Tornare indietro dopo aver conosciuto la morte e in un momento futuro dover ricominciare da capo a morire. Stefano è detto il proto martire, ma Lazzaro non è toccato di peggio? E intanto dov'è Dio? Di tutti i sintomi questo è uno dei più inquietanti. Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di Lui se ti volgi a Lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto a braccia aperte. Ma vai da Lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano. E che cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia. E il rumore di un doppio chiavistello all'interno, poi? Il silenzio. non ci sono luci alle finestre. Potrebbe essere una casa vuota. È mai stata abitata? Un tempo lo sembrava. Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione? Una risposta fin troppo facile che Dio sembra assente nel momento del nostro maggior bisogno appunto perché è assente. Perché non esiste. Ma allora perché sembra così presente quando noi per dirla con franchezza non lo cerchiamo? Una cosa comunque devo al matrimonio. Mai più crederò che la religione sia un prodotto dei nostri appetiti insoddisfatti o un surrogato del sesso. I pochi anni che io e Gioia abbiamo passati insieme sono stati un vero banchetto d'amore. L'amore è in tutte le sue modulazioni solenne festoso romantico e realistico a volte clamoroso come un temporale a volte dimesso accogliente come infilarsi le pantofole. Non un angolo del cuore del corpo è rimasto insoddisfatto. Se Dio fosse un surrogato dell'amore avremmo dovuto perdere ogni interesse per lui. Perché sprecare il tempo con i surrogati quando si ha l'originale? Ma non è così. Non è stato così. Sapevamo entrambi che volevamo qualcosa oltre l'altro. Qualcosa di assolutamente diverso il cui bisogno era assolutamente diverso. anni fa dopo la morte di un amico la certezza che la sua vita continuava che anzi continuava su un piano più alto fu per qualche tempo una sensazione nettissima. Ho supplicato che mi venga data anche solo la centesima parte di quella assicurazione per Gioi. non c'è risposta. Solo la porta sbarrata la cortina di ferro il vuoto lo zero assoluto. Persone di buon cuore mi dicono che ora è felice mi dicono che è in pace. Da dove traggono questa certezza? Non che io tema ciò che vi è di peggio. Una delle ultime cose che disse fu sono in pace con Dio non lo era stata sempre e non ha mai mentito. Ma perché sono tanto sicuri che la morte metta fine ai tormenti? Perché la separazione che tanto strazia chi rimane dovrebbe dovrebbe essere indolore per chi se ne va perché è nelle mani di Dio ma se per questo lo era anche prima nelle mani di Dio e io ho visto quel che esse le hanno fatto qui diventavano tutta un tratto più delicate appena siamo usciti dal corpo a parte i nostri disperati desideri che ragione abbiamo per credere che Dio sia buono? Tutte le prove manifeste non indicano il contrario che cosa abbiamo da opporre. Abbiamo Cristo ma se si fosse sbagliato tra le sue ultime parole ce ne sono alcune il cui significato potrebbe essere chiarissimo. aveva scoperto che l'essere da lui chiamato padre era orribilmente diverso da quello che lui aveva creduto. La trappola preparata da tempo con tanta cura e tanta sottile astuzia scattò infine sulla croce. L'infame beffa era riuscita. Padre perché mi hai abbandonato? Ciò che soffoca ingola ogni preghiera e ogni speranza è il ricordo di tutte le preghiere che Gioi e io abbiamo offerto e di tutte le nostre false speranze. Speranze non nate non solo dalle nostre illusioni ma incoraggiate da false diagnosi da radiografie da strane emissioni da una guarigione temporanea che aveva quasi del miracoloso. Un passo dietro l'altro siamo stati menati per il naso e lui ogni volta mentre faceva mostra di misericordia in realtà stava preparando il nuovo supplizio. Non che io sia in pericolo mi sembra di smettere di credere in Dio il vero pericolo è di arrivare a credere di lui queste cose orribili. La conclusione che pavento non è Dio dunque non esiste ma è è questa dunque al di là di ogni illusione la vera realtà di Dio e allora perché do spazio nella mia mente a questa idiozia? È razionale credere in un Dio cattivo o comunque in un Dio tanto cattivo? Il sadico cosmico l'idiota malevolo tutte queste note non sono forse gli assurdi contorcimenti di chi non vuole accettare il fatto che nella sofferenza non si può fare altro che soffrire una carne sola o se si preferisce una nave il motore di dritta è andato io il motore di sinistra devo tirare avanti in qualche modo fino al porto o meglio fino alla fine del viaggio come posso essere sicuro che esista un porto? È molto più probabile una costa sotto vento una notte nera una burrasca assordante e se da terra brillano luci saranno certo lanterne agitate da chi mi vuole fare naufragare sugli scogli quando la compagna del professore muore è una donna che ha poco più di 50 anni il lutto accade quando il professore ha 60 anni e dopo tre anni il professor Lewis muore non possiamo interrogare il rapporto tra questo lutto l'atrocità di questo lutto e la morte del professore però possiamo interrogare come fa in questo passo che abbiamo appena ascoltato la dimensione ingiusta della morte incomprensibile e ingiusta della morte la dimensione innaturale della morte la dimensione prematura della morte c'è sempre una ingiustizia nella morte soprattutto quando la morte interrompe un legame d'amore perché e non è un caso che allora la domanda investa Dio parliamo di un uomo religioso di un uomo credente e dunque dove era Dio nel momento in cui la propria compagna si è ammalata e nel momento in cui è scomparsa dove era Dio dove sei si chiede in un passaggio del suo diario dice che i morti tutti i nostri cari morti assomigliano a Dio e quale sarebbe la somiglianza tra i nostri cari morti e Dio il fatto che nessuno dei due né Dio né i nostri cari morti ci rispondono sono nel silenzio assoluto padre perché mi hai abbandonato anche nella supplica del figlio nel gezzemani rivolta al proprio padre Dio non risponde lascia che la preghiera del figlio prediletto lascia che la preghiera di Gesù cada nel vuoto e anche la preghiera di Lewis cade per certi versi nel vuoto Dio non risponde resta in silenzio c'è uno straordinario film di Scorsese su questo intitolato proprio il silenzio gli esseri umani fanno esperienza da una parte della invocazione di Dio per esempio attraverso la preghiera noi saremmo tutti in qualche modo non solo come diceva Aristotele animali sociali ma saremmo tutti in qualche modo degli animali che pregano gli esseri umani hanno da sempre pregato gli dèi e hanno pregato gli dèi per poter dare un senso alla sofferenza per poter dare un senso alla morte ma Dio non ha mai parlato il silenzio definisce per certi aspetti il mistero di Dio e questo Lewis lo sa bene nonostante invochi la sua parola sa bene che Dio non risponderà la posizione che abbiamo ascoltato ci ricorda un grande protagonista drammatico protagonista del testo biblico che è Giobbe in fondo anche Giobbe fa esperienza radicalissima perde tutto quello che ha perde tutti i suoi figli perde la salute del proprio corpo fa un'esperienza radicalissima della perdita e chiede a Dio qual è il senso di questa perdita chiede a Dio la ragione di questa perdita e descrive Dio non tanto come luogo appunto della del bene dell'amore della legge giusta ma descrive Dio come esattamente Lewis l'ha descritta in questo passo che abbiamo ascoltato Dio è una porta chiusa una porta sbarrata Dio lascia che si consumi l'ingiustizia del dolore della morte nel silenzio perché diceva Giobbe mi hai preso a bersaglio perché mi salti addosso come un leopardo stritoli il mio collo vuoi la mia morte è quello che appare anche nelle descrizioni di Lewis come Dio di un grande burattinaio sadico cosmico un veterinario in altri passaggi del testo che ci usa un po' come dei topi da laboratorio sarebbe questa l'immagine di Dio che risuona evidentemente la rappresentazione che Giobbe dà dà di Dio non è proprio vero che se uno chiede gli sarà dato ciò che chiede questa massima evangelica chiedi e ti sarà dato sembra essere sconfermata dal dolore di questo lutto lui chiede ma nessuno gli risponde lui chiede e nessuno gli restituisce il suo amore è accaduta una cosa del tutto in attesa stamattina presto per una serie di ragioni mi sentivo il cuore più leggero di quanto non mi succedesse da settimane prima di tutto è probabile che mi stia riprendendo dalla pura prostrazione fisica l'altro ieri poi sono stato in movimento per 12 ore di fila una stancata salutare cui è seguito un sonno più lungo più profondo del solito dopo 10 giorni di cielo grigio e di umidità immobile è tornato il sole e si è levata a una brezza leggera e all'improvviso proprio nel momento in cui il dolore per Gioia era meno forte ho avuto di lei un ricordo vivo come non mai anzi qualcosa di meglio di un ricordo è stata un'impressione istantanea incontrovertibile dire che è stato un incontro sarebbe troppo eppure aveva una qualità che quasi induce a usare quelle parole è stato come se l'attenuarsi della pena avesse rimosso una barriera questo è il fatto e credo di potergli dare un senso è impossibile vedere bene quando gli occhi sono offuscati dalle lacrime è impossibile più delle volte ottenere ciò che si vuole se lo si vuole troppo intensamente facciamo una bella chiacchierata una frase che garantisce il silenzio generale a questa notte devo assolutamente dormire il preludio a ore di veglia che sia quindi l'intensità stessa del rimpianto a far scendere la cortina di ferro a darci l'impressione di fissare il vuoto quando pensiamo ai nostri morti con Dio forse è lo stesso a poco a poco ho cominciato a sentire che la porta non è più sprangata è stato il mio delirante bisogno a sbattermela in faccia forse quando nell'anima non hai nulla se non un grido di aiuto è proprio allora che Dio non può soccorrerti sei come uno che annega e non può essere aiutato perché annaspa si aggrappa alla cieca forse le tue stesse continue grida ti rendono sordo alla voce che speravi di sentire è vero è stato detto bussate e vi sarà aperto ma bussare significa dare pugni e calci alla porta come un invasato dunque uno dei due muore e noi lo vediamo come un amore interrotto come una danza arrestata a metà giravolta un fiore con la corolla strappata qualcosa di troncato privo della sua giusta forma ma è così se come non posso fare a meno di sospettare anche i morti sentono i tormenti della separazione allora per entrambi gli amanti la perdita dell'altro è una parte integrante dell'esperienza d'amore essa segue il matrimonio con la stessa normalità con cui il matrimonio segue il corteggiamento o l'autunno l'estate non è un troncamento del processo ma una delle sue fasi non è l'interruzione della danza ma la figura successiva guardando indietro vedo che solo poco tempo fa mi tormentava l'idea del mio ricordo di Joy e di una sua possibile falsificazione per non so quale ragione ho smesso di preoccuparmene e la cosa straordinaria è che da quando ho smesso di preoccuparmi lei mi viene incontro no venire incontro è un'espressione troppo forte è piuttosto come una sensazione discreta ma tuttavia massiccia che lei sia ora non meno di prima ostinatamente reale perché come ho scoperto l'abbandono al dolore invece di legarci ai morti ce ne distacca questo questo mi diventa sempre più chiaro è proprio nei momenti in cui la pena è meno forte che Joy invade di colpo la mia mente nella sua piena realtà nella sua alterità non come nei momenti peggiori scorciata resa patetica solenne dalla mia cupezza ma così come essa è come è davvero questo fa bene tonifica ma allora a che punto sono venirne fuori così presto no stanotte si sono riaperti gli abissi infernali del dolore fresco come nei primi tempi le parole folli le proteste rabbiose i sobalzi dello stomaco l'irrealtà da incubo l'orgia di lacrime perché nulla resta giù nel dolore si è appena emersi da una fase che ci si ritrova al punto di partenza e poi ancora e ancora tutto si ripete è un girare in tondo il mio oppure oso augurarmi che sia una spirale e se è una spirale sto salendo o scendendo hai mai saputo cara quanto ti sei portata via andandotene però come ho detto ci sono due grandi conquiste rivolta a Dio la mia mente non trova più la porta sbarrata rivolta a Joy non trova più quelle ansie sull'immagine che la mia mente ha di lei non importa se tutte le fotografie che mi sono rimaste di noi sono brutte non importa se il mio ricordo di lei è imperfetto le immagini sulla carta nella mente non sono importanti in sé sono solo agganci la realtà è iconoclastica l'amata terrena già in questa vita trionfa incessantemente sull'idea che abbiamo di lei e noi vogliamo che sia così la vogliamo con tutte le sue resistenze i suoi difetti la sua imprevedibilità la vogliamo nella sua realtà solida e indipendente ed è questo e non un'immagine o un ricordo che dobbiamo continuare ad amare dopo che è morta quando la fine fu vicina le dissi se puoi se è permesso vieni da me quando sarò anche io sul letto di morte se è permesso rispose il cielo avrebbe un grande affare a trattenermi quanto all'inferno lo ridurrei in briciole sapeva di usare una sorta di linguaggio mitologico e negli occhi insieme alle lacrime gli brillava una risata ma non c'erano miti o scherzi nel lampo della volontà più profonda di qualsiasi sentimento che malvagità sarebbe se ne avessimo il potere richiamare in vita i morti non a me ma al cappellano disse sono in pace con Dio e sorrise ma non a me poi si tornò all'eterna fontana non è un lieto fine esiste un lieto fine in un lutto eppure la porta blindata la porta chiusa sembra aprirsi almeno un po' che cosa è accaduto che cosa ha reso possibile questa apertura da una parte il professore ci dice che ogni lutto non è un cammino lineare fatto a stazioni successive come una progressione ma piuttosto ogni lutto assomiglia a un movimento spiraliforme ci sono passaggi in avanti in cui stiamo meglio ci sentiamo alleggeriti dal dolore e poi si ritorna di nuovo indietro si ricade di nuovo indietro non dobbiamo immaginarci il lavoro del lutto come un viaggio in autostrada dopo una città o un'altra piuttosto assomiglia appunto a un movimento in avanti che implica sempre delle ricadute all'indietro al punto tale che potremmo pensare che non esiste mai fine non esiste mai possibilità di portare a compimento questo lavoro ma che questo lavoro necessariamente se abbiamo davvero amato profondamente amato qualcuno è un lavoro interminabile che coincide con la nostra stessa vita ma da una parte può esserci di questa interminabilità una declinazione solo dolorosa ed è quando ed ecco la porta che si chiude che si sbarra ed è quando noi vorremmo ritornasse in vita e quando noi pronunciamo appunto l'esclamazione ritorna e quando noi pensiamo a lei che non è più qui con rimpianto e siamo distrutti dal rimpianto come accadeva alla regina vittoria che in un brano del diario Lewis evoca che quando perse l'amato principe Alberto non solo aveva circa 40 anni da quel momento in avanti si veste si vestirà di nero appunto il colore del lutto i colori del mondo che si spengono non solo si vestirà di nero ma ordinerà ai suoi servitori di preparare ogni giorno sul suo letto i vestiti per il principe come se fosse un disperato tentativo di tenere bloccato il tempo di fare esistere ancora chi non è più qui se rimaniamo in questa posizione questo comprende Lewis allora saremo sommersi dal dolore e dal rancore e dal rimpianto e invece la possibilità di aprire la porta è quella di trasformare il nostro rimpianto in gratitudine di trasformare uso le parole di Nice di trasformare la preghiera e l'invocazione della preghiera fai che torni fai che non sia morta trasformare la preghiera in una benedizione cioè quando noi diciamo tutto quello che ho ricevuto da lei finché lei è stata in vita giustifica il fatto che lei non sia più qui tutto quello che io ho ricevuto dalle persone che non sono più qui che non sono più con noi è stato talmente grande che io posso lasciarle andare che posso separarmi che posso non rimpiangere nulla dunque al posto della preghiera la benedizione tutto è bene gratitudine è un termine che meriterebbe meriterebbe da solo diciamo un approfondimento ma che implica una costellazione di significati diversi vuol dire riconoscimento vuol dire riconoscenza vuol dire grazie vuol dire grazia vuol dire essere grati il professore è grato alla donna che ha incontrato gli è grato e è la gratitudine del professore che consente alla porta di aprirsi allora il ricordo di lei non è più una stilettata una frustata che fa male che provoca dolore ma assomiglia ed è un'immagine che ho recentemente proposto appunto alla luce delle stelle morte le stelle morte sono come gli astrofisici ci spiegano quello strano fenomeno che descrive la percezione che noi abbiamo della luce delle stelle la luce che noi vediamo adesso che ci visita ora delle stelle proviene da corpi celesti morti milioni di anni fa i corpi sono morti ma continuano a sprigionare luce lei non è più qui ma continua a essere qui per la luce che sprigiona e la gratitudine è esattamente la gratitudine nei confronti di questa luce grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti